Allora, noi veramente ringraziamo tutti, adesso è il momento delle domande, abbiamo anche la valletta che si è offerta e quindi noi la ringraziamo, come ringraziamo il sindaco che ha creduto in questo convegno e ringraziamo tanti ragazzi perché vi ricordo che questo convegno è stato organizzato in pochissimi giorni e tanti ragazzi ci hanno lavorato, no è il momento delle domande, tanti ragazzi ci hanno lavorato e qualcuno di tutte le appartenenze politiche, molti ragazzi anche del 5 Stelle ci hanno lavorato e mi hanno detto lo puoi anche dire che siamo del 5 Stelle e io gli ho detto guardate io dico tutto, a me non interessa l'importante è che ci mettiate il cuore e quindi vogliamo ringraziare questi straordinari ragazzi che hanno lavorato. Adesso se ci sono delle domande alzate la mano, c'è un signore, allora ce ne sono due, avevo dato la precedenza a lui perché veramente si era iscritto a parlare, poi dopo c'è un signore con una maglia arancione. Io volevo chiedere a chi dobbiamo dare noi i soldi, cioè il debito pubblico, a chi dobbiamo dare i soldi e poi vorrei sapere la proprietà della moneta di chi è. Ok, domanda secca, risposta, chi vuole rispondere? Paolo, ok. Allora, no voglio dire una cosa, scusate perché io una cosa che odio è quando qualcuno fa una presentazione e uno degli ospiti sta lì col telefonino, io ero al telefonino mentre si parlava di tragedie umane perché stavo scrivendo a Gianluigi Paragone di far tornare in trasmissione il comitato, lo dico perché, per carità di dire, non è che stai lì a scrivere un mio amico, ciao come stai. Allora, la proprietà della moneta, come ho detto, è del monopolista della moneta, l'immissore della moneta, è sempre dello Stato la proprietà della moneta e, contrariamente ad alcune teorie che circolano molto in centro Italia, non può essere di proprietà del cittadino semplicemente per il fatto che se la moneta fosse proprietà del cittadino lo Stato non esisterebbe più, perché, abbiamo detto prima, lo Stato usa la moneta per costringere una quota di cittadini a lavorare per lo Stato e ne assume una certa quota, se non ci fosse questa prerogativa il Governo non esisterebbe, non riuscirebbe a sussistere. Ma lo Stato è un'altra cosa del cittadino? No, l'abbiamo detto all'inizio, lo Stato è un'altra cosa del cittadino, lo Stato è un'amministrazione eletta dal cittadino ma che si separa da tutti gli altri punti di vista dal cittadino, proprio perché il cittadino deve essere il recipiente della ricchezza del prodotto creata dal nulla, dallo Stato sotto forma di beni finanziari, quindi non ci può essere un'identificazione fra i due, motivo per cui, come dicevo, le rispondo alla seconda domanda, il debito non è pubblico, il debito è dello Stato, lo Stato crea una moneta, ne spende di più di quella che toglie in tasse, quindi fa un deficit, i deficit sommati fanno il debito pubblico, quindi il debito lo emette lo Stato, il cittadino è in mano una ricchezza, il cittadino non deve ripagare nessun debito, non ha mai ripagato nessun debito, non deve ripagare il debito, a meno che un Governo sciagurato vada in Eurozona, a questo punto, allora cosa succede? Che il Governo deve fare il pareggio di bilancio per ridare la sua spesa a chi gli ha prestati i soldi e tassa morti i cittadini per questo, allora con l'Eurozona, perché siamo in Eurozona, il debito è diventato pubblico, cioè ci vengono a tassare non per ridare i soldi allo Stato, ma per ridare i soldi ai mercati che prestano il danaro allo Stato, usciamo dall'Eurozona come l'America, la Svezia, il governo, eccetera, questo problema non l'abbiamo più. Allora c'è un signore con la maglia arancione, ovviamente non lo conosco, il microfono è stato acceso? Sento, sì sì è acceso. Dunque io sono un professionista, ho sentito, sono venuto a questo convegno dopo aver visto una sua intervista dove si diceva che il titolo del convegno era opportunità l'Europa, opportunità o declino. Devo dire che fino ad ora, perché anch'io avvicinandosi alle elezioni europee, volevo chiarirmi le idee, che cos'è l'Europa, avete introdotto parlando i trattati, spiegheremo e veramente con questo, io non sono di servigliano, vengo a servigliano per lavoro qualche volta e faccio l'avvocato, ho più anni di tutti voi, però una cosa vi, al di là della delusione perché finora non si è parlato d'Europa, di nulla si è parlato d'Europa, la prima cosa che osservo è che i processi, e lo dico a lei e a lei, si fanno con la difesa, cioè non è che c'è solo l'accusa, io sono abituato in tribunale, c'è la pubblica accusa, c'è il difensore e c'è il giudice, quindi non va bene, io non l'ho interrotta, io non l'ho interrotta, mi faccia finire, dopo dice lei quello che vuole, un momento, c'è un'accusa, c'è una difesa e c'è un giudice, io questa sera ho sentito soltanto il pubblico ministero, se io parlo male di Monti, c'è di essere qualcuno che può difendersi, quindi è un momento, finiamo qui, ho chiuso la parentesi, volevo dire solo che quando si parla e si lanciano delle accuse, bisognerebbe consentire a qualcuno difenda, ma non era questo il tema di stasera, la cosa che mi delude è che non era questo il tema di stasera, io sono venuto per sapere, ad esempio, mi pare aver capito che secondo le teorie del dottor professor Noso Barnard, ho studiato anch'io scienza delle finanze, economia politica eccetera, ma le affermazioni che fa, io ho difficoltà a capire la sua costruzione, veramente, ho avuto tanta difficoltà a capirla, perché non riesco a capire, c'è lo Stato è padrone dei soldi, ma i botti ce l'ho anch'io in tasca e vorrei che qualcuno mi li ripagasse quando scadono, cioè, momento, momento, non faccio vedere, no, 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 non facciamo, se no si apre una tavola rotonda che non finisce mai, finisco subito, finisco subito, una cosa sola, perlomeno vorrei uscire da questo convegno, perché se sapevo com'era l'aria non veniva affatto, ma vorrei sapere, siamo entrati nell'euro, io avevo 1937 lire e mi hanno dato un euro, se usciamo dall'euro come mi pare che il professore sostenga, sarebbe bene uscire dall'eurozona, io riporto l'euro in banca o dove lo porto, cosa mi daranno, che ci comprerò con quello che mi daranno, cioè volevo capire questi meccanismi, capire se mi conviene restarci, se mi conviene uscire, cosa succede se ci resto, cosa succede se ne esco, volevo sentire qualcosa di concreto su questo, perché se qualcuno ci può aiutare ero venuto per avere questo contributo. Ok, benissimo, allora chi è che vuole rispondere? Vogliono rispondere tutti a questo punto, allora, l'obiezione che fa il collega avvocato, la rimando, quante volte noi a parti invertite non siamo stati mai chiamati. Forse il collega non ha capito che noi siamo andati al Senato della Repubblica, dove ho incontrato l'esimio dottor Pietro Grassi, presidente del Senato, e là noi abbiamo riferito la nostra opinione in merito all'istigazione al suicidio. Nessun senatore è venuto alla conferenza, tranne una che ci ha ospitato e ci ha permesso di fare la conferenza. E il nostro video è stato eliminato. Questo quando si vuole parlare di parità di diritto, diritto alla difesa, che purtroppo in questo caso i cittadini hanno già visto, hanno sulla propria pelle. La gente si è suicidata, collega. Io ho ascoltato i genitori dei ragazzi che hanno perso il loro figlio. Io ho ascoltato le figlie di un imprenditore di 53 anni che si è suicidato e la cui famiglia è andata sottosopra. Mi segue? Noi qua non abbiamo discusso di Europa e sono d'accordo con lei, però io lo farei parlare con un agricoltore del mio territorio che versa 20.000 euro di IVA ogni anno e non riceve niente dall'Europa. Questa è l'Europa che doveva aiutare i piccoli agricoltori e invece aiuta la Nestlé, la Thatcher, la regina d'Inghilterra regalando miliardi di euro per i terreni a riposo, se lei non lo sa. Decine e migliaia di ettari e decine di migliaia di euro versati ai potenti, non ai nostri miseri agricoltori. Ma lei può andare anche via. Noi siamo quelli che vogliamo l'Europa, noi siamo quelli che vogliamo l'Europa, non facciamo un dibattito, noi vogliamo l'Europa dei popoli. Ieri pomeriggio ho trattato con un agricoltore a cui debbo affittare il mio terreno incolto perché lui prenderà i contributi europei. L'Europa è una cosa complessa, capisco che è complessa, però non si può dire perché qualcuno, io so che chi segue l'Europa, ho seguito centinaia di imprenditori nella mia professione e vi posso dire che se uno si attrezza l'Europa qualche opportunità la dà. Allora se voi stasera, buoni, avete detto opportunità... Scusate, però non è... scusate, c'è tanta gente che deve fare delle domande, le domande devono essere di 30 secondi. Io la ringrazio perché lei ha aperto un capitolo... sì, c'è il professor Lucisano che vuole fare una domanda, poi c'è un altro signore. Io più che domanda volevo dire a tutti quanti noi, io faccio l'insegnante, la vita che passo quotidianamente la passo con i vostri figli, molti di voi qui li conosco e sono genitori, il problema non è solo quello che chiaramente è le nostre aspettative, i nostri figli che facciamo per loro. Io ho chiesto ad alcune persone di trovarci, io credo che fondamentalmente quelli dei forconi che vanno a destra, a sinistra, a Roma, sbagliano. Noi dobbiamo andare nei nostri comuni, entrare, parlare, prendere i sindaci, metterli lì e cercare di farli legge ferrare. Io sto cercando di far capire un pochettino quello che penso io e quello che vorrei fare. Io ho fatto politica nel territorio, sono stato con Alleanza Nazionale, ho fatto due volte le provinciali, mi hanno tagliato le gambe perché volevo fare politica per le persone, perché ho lottato per la Saddam contro i grandi politici che qui nel territorio mi conoscono e sanno, sindaci, assessori, senatori, parlamentari, l'incontro e li denuncio, le dico queste cose a loro e non mi guardano più sulla faccia. A me non me ne frega niente perché per me il valore prioritario, lo ripeto ancora, io di figli ne ho due e quei ragazzi che con me vengono a scuola, la scuola è stata distrutta da questi signori che adesso qui sono stati nominati, da questi maiali che hanno voluto una scuola abbassata alla miseria perché i nostri figli non debbono conoscere né sapere nemmeno la storia perché la storia a loro non gli viene raccontata, gli raccontano le balle e le scrivono sui loro testi che ci obbligano a dare a loro perché i nostri testi, la verità non la fanno sapere né a voi né a nessun altro. Quindi io non guardo solo la questione dell'Europa che so benissimo che è il gioco di questi grandi signori della politica. Adesso una lotta che stanno facendo, una solidarietà che stanno facendo tra i banchieri americani e le banche europee. A breve ci sarà questa situazione. Faccia la domanda perché... No, la domanda è questo. Io vorrei sapere, noi come semplici cittadini che possiamo fare e come possiamo muoverci per poter cominciare ad avere i nostri diritti come cittadini, non come sudditi. Noi siamo sudditi e cittadini. Qui la maggioranza della gente è suddita. Siamo dei sudditi, servi dei padroni. Io voglio solo sapere se con questo comitato possiamo formularci e fare qualcosa. C'è chi vuole rispondere alla sua domanda. Io voglio prendere... No, non rispondo alla tua domanda, poi passo subito il microfono a Francesco. Io voglio dire solo una cosa che lui ha parlato di sindaci. Io ho dimenticato e ne faccio venia che un sindaco di Abano Terme, insieme alla sua giunta, ha denunciato il governo per istigazione al suicidio. Se lo facessero tutti i sindaci d'Italia, forse qualcosa cominciamo a muoverlo. Io voglio rispondere al signore perché realmente merita una risposta attenta. Innanzitutto io non sto parlando di una teoria del complotto ovviamente, ma di tutti i dati documentati. Ma io il contraddittorio l'ho sempre cercato. Io sono noto al web per essere quello che durante la firma del meccanismo europeo di stabilità ha stampato il trattato, ha piazzato una tenda da campeggio davanti agli su di Mediaset e fisicamente l'ho lanciato nelle macchine dei giornalisti. Inseguendoli, chiedendogli come mai parlavano degli sprechi delle auto blu, degli sprechi dei parlamentari che rubano e non denunciavano un meccanismo come il meccanismo europeo di stabilità, come il fiscal compact, come il six-pack. Io ho piazzato una tenda e c'è un video su YouTube che è stato visto da oltre 2 milioni e mezzo di persone e non ha avuto neanche un trafiletto o una risposta da questi giornalisti. Si trattava dei giornalisti delle Iene, quindi i paladini della giustizia dei media italiani. Io l'ho inseguito, c'è il video che invito chiunque a vedere, si chiama Smascherate le Iene, li ho inseguiti fisicamente, ho lanciato i trattati nella macchina, si vede nel video, nessuno mi ha risposto. Ho chiesto di fare un servizio sui legami tra i politici e gli italiani ed il Bilderberg, dopo averlo documentato, perché io di prova gliene posso portare tantissime, quel servizio non l'hanno voluto fare, mi sono vestito da Iena, io ho usato i loro mezzi, sono andato in Svizzera a intervistare Daniel Estuli, nel più grande esperto mondiale di Bilderberg, ho fatto il servizio che le Iene non hanno voluto fare, l'ho messo sul web, l'ho proposto ai giornali e nessuno mi ha mai calcolato o nessuno ha mai dato spiegazione a quanto io denunciavo. Sono riuscito ad andare alla 7 in televisione da Telese con un escamotage, quando ho cominciato a trattare questo argomento, la invito a guardare il video, c'era il panico del giornalista che non riusciva a darmi un contraddittorio, non riusciva a smentire quanto dicevo, quella trasmissione l'hanno intitolata la web guerra del blogger, io non stavo facendo la guerra a nessuno, io stavo portando un'informazione, le posso fare se le vuole adesso, se gli altri vogliono, una slide sull'Europa che si chiama Capire l'Europa, io le assicuro che lei dopo aver sentito e aver capito chi ha voluto questa Europa non si domanderà più se dobbiamo uscire o se dobbiamo rimanere, perché quando c'erano i nazifascisti non è che l'hanno chiamata per dire vogliamo fare un referendum per sapere se vogliamo tenerci i nazisti in Italia o meno, quando ci rendiamo conto che il palazzo brucia, non possiamo metterci a citofonare al citofono di ogni condomine per chiedere il palazzo sta bruciando, lei vuole uscire, no, dobbiamo scendere in piazza e gridare di andare via. Allora, vi prego, domande celeri, brevissime e risposte altrettanto brevi perché inizia a essere tardi, ovviamente è appassionante, però... Buonasera a tutti, buonasera, per chi non mi conosce sono Luigi Romagnoli, sono un attivista di 580 CP, sono un fondatore di Chips, sono un attivista perché vado nelle piazze, insegno a tutti come fare i banchetti per raccogliere le denunce contro questo governo. Allora, vorrei chiedere a questo avvocato, leggere questa poesia che ho ricevuto ieri sera e poi vorrei chiedergli se è disposto a difenderlo in sede europea. Sì, è una domanda, va bene, ok, veramente 30 secondi perché se no... Ciao a tutti i ribelli, sia virtuali che attivi, io mi ritiro, non mi è più possibile continuare, in dicembre ho ripercepito l'ultimo assegno di disoccupazione e da gennaio in casa mia non entra nemmeno un euro, gli assistenti sociali se ti danno un euro 200 per tre mesi, poi altri tre mesi nulla, non mi permettono di vivere, non chiedetemi di essere ottimista, io sono realista e con due mogli e due bambini, ormai da giugno, scusate, con due mogli e due bambini a cui non potrò nemmeno garantire il mangiare, non è una bella vita, l'affitto ormai da giugno che non lo pago, le bollette vado a periodo di stacco e attacco, ma ora questo nemmeno più sarà possibile, non ho parenti, altro che mi danno un minimo di aiuto, per cui la mia battaglia finisce qui, andrò davanti da solo e a Roma e se andrò per portarmi all'inferno altri, da solo non voglio starci, non ditemi di pensare i bambini, quelli saranno gli assistenti sociali che mi li toglieranno, più avanti quando finisco in strada ed io questo non lo sopporterei, anche se almeno loro potranno mangiare di avere un tetto, ma non la loro famiglia, il nostro affetto, ho sperato in vano che il risultato veloce del 9 dicembre, ma i traditori hanno fatto il resto, adesso non posso aspettare oltre, non posso rispettare il codice etico di certo, non posso aspettare la rivolta pacifica ed intelligente, voglio vedere qualcosa se in fretta e farò da solo, non prendetemi certo come esempio, voi lottate, andate avanti per l'obiettivo e fatelo per i vostri figli e per i miei, avvocato, pensi ai suoi figli. Grazie, grazie, adesso c'è l'ultima domanda però c'è una signora, se la signora non farà un comizio lei potrà fare un'altra domanda, allora ok, cerchiamo veramente di non fare un altro comizio, no no la signora lì, la signora, la signora, ho capito, ho capito, allora c'è un signore, c'è un signore laggiù, in fondo, a sinistra, ah c'era lei, c'era lei, scusa. Innanzitutto volevo ringraziare tantissimo Antonio Corcione per aver evidenziato in una conferenza come questa il tema, il business legato alla tutela, alla finta tutela dei minori che il giudice Morcavallo parla di circa due miliardi di business all'anno ma sicuramente anche molto di più. Detto questo, il signore che prima ha intervenuto ha fatto delle domande a cui penso molte persone potrebbero fare nell'ignoranza diciamo e una è questa, molta gente è spaventata appunto dall'uscita dall'euro e sarebbe bene che qualcuno ci spiegasse perché non bisogna essere spaventati e come fare anche per la rescissione dai trattati internazionali, sappiamo che non si può fare tramite referendum, questo c'è stato detto e allora quale altra soluzione adottare? Perché, e concludo, credo che al di là dell'ignoranza la maggior parte delle persone siano confuse e siccome questo anche fa parte del progetto, più ci chiarite le idee e più riusciamo a lottare. Perfetto, abbiamo capito una domanda e vuole rispondere Paolo Barnard. Allora, grazie, dunque innanzitutto chiarimento per tutti, io non so chi ha detto, anzi il solito avvocato, le teorie di questo signore, no no, senza, le teorie di questo signore, io non porto avanti le mie teorie, noi siamo una scuola di economia che ha oltre cent'anni, questi sono i padri storici dell'economia, insomma i nomi sono quelli che vedete, Keynes, Kaleski, Lerner, Godley, Minsky, Goodart, eccetera, fino a Warren Mosler che oggi è il padre. L'altra cosa che volevo dire appunto per rispondere a chi chiede cosa fare, è liberamente scaricabile dal mio sito, queste sono 40 pagine scritte in modo che possano essere lette da mia zia, da mia zia di 84 anni, va bene? Sono, si intitono, non eravamo in Pigston, ero in Italia, programma M&T di salvezza economica per il paese, altro non è che la risposta è spiegata a tutti i cittadini perché possiate avere voi le risposte da dare ai sindaci, ai politici, eccetera, su tutte le obiezioni cosa succede se usciamo dall'euro, sfatando tutti i falsi miti che io chiamo terrorismi, terrorismi economici che vengono propagati, ah ma se usciamo dall'euro con la lira andiamo a comprare il pane con le carrette di soldi, tutte queste cretinate dette da ignoranti che non hanno mai studiato un minuto di macroeconomia nella loro vita, si scarica dal sito o si compra anche in forma cartacea, si trova anche in forma cartacea ma meglio scaricarlo gratuitamente. Ah li abbiamo qui al banchetto lì, eccolo. Allora c'è il signore, c'è il signore, una raccomandazione, velocissimo. Bene, mi presento, sono Alfonso Rossi da Porto Sant'Elpidia, faccio il notaio. L'esperienza di questi anni per me è stata tremenda, ho visto un quantitativo enorme di persone come una corte di miracoli venire allo studio a chiedere consigli aggrediti dagli uffici delle imposte e degli acquitali. Soprattutto ho visto da parte di questi uffici un atteggiamento piuttosto estensivo della responsabilità solidale, cioè in violazione di quelle che sono le interpretazioni delle norme, ad esempio in un caso di una società, un socio di un SRL che ha una piccola quota viene attaccato per l'intero importo evaso solo per il principio di solidarietà che non è applicabile in caso di una responsabilità limitata, sulla base di un principio per cui il contribuente prima si intimidisce, poi se vuole va con gli avvocati a difendersi, se no a loro interessa l'incasso. Non sono più uffici delle entrate, sono agenzie, quindi hanno interesse solo a formulare un accertamento che determina un incasso e che sia a posto col bilancio, al punto tale che se ne deduce un argomento semplicissimo, a questi interessa soltanto drenare liquidità, non gli interessa la giustizia e la verità, non gli interessa se la persona in questione è una persona pensionata senza un reddito, gli chiedono tranquillamente 100, 200 o mila euro solo sulla base di norme che loro stravolgono come interpretazione per allargarne la portata dal di là di quello che prevede il testo originario. Dicendo tanto ti difendi con gli avvocati, loro non sono mai responsabili se perdono la causa. Allora io mi chiedo, un sistema del genere secondo me è voluto, ma se è voluto, dopo che abbiamo visto questo tipo di atteggiamento puramente fiscalista in Tremonti, in Monti e adesso in saccomanni è letta. Come posso pensare che questo illuminato che sarebbe Matteo Renzi con questo ministro che si chiama Padoan possano in qualche modo o misura cambiare le carte in tavola? Io ho l'impressione che il debito pubblico di 2 miliardi è arrivato a 2.100 miliardi nonostante delle tasse. Io mi chiedo, ma quanto è che schioppa sta storia? Quanto resiste? Qui più aumentano le tasse e più il debito pubblico aumenta. Ho finito. A parte che dice cose interessantissime. Ok. Rotaio, io le volevo dare una risposta breve. Intanto le chiederei, lei che ha visto tutte queste persone entrare nel suo ufficio? Che tipo di reazione ritiene di dover avere da domani mattina in poi? Non da notaio, ma da cittadino. Secondo, la risposta che do anche a lui, cioè che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare proprio questo. Se fino a ieri qualcuno pensava ancora di poter continuare a fare l'idraulico, l'avvocato, l'artigiano, l'industriale, oggi deve pensare di mettere da parte un momento queste attività e di fare la liberazione di questo paese. Ragazzi, non c'è alternativa. Noi abbiamo fondato il 15 e 16 il Comitato Italiano Popolo Sovrano. È una iniziativa che vuole mettere tutti sotto un'unica bandiera con le proprie bandiere per poter liberare questo paese. Mi dovete credere. Quello che dico a Paolo Barnard, per il quale credo che tutti abbiamo stima, soprattutto quando lui ha insegnato a noi a combattere i poteri forti, lui ha insegnato a noi cose che non sapevamo. Quando lui ne parlava per la prima volta, noi non sapevamo le cose che Paolo ci diceva e probabilmente gli dicevamo che era un complottista. Oggi quelle cose sono diventate patrimonio comune. Allora, quello che io mi sento di chiedere a Paolo Barnard è possiamo mettere un momento da parte le soluzioni di tipo macroeconomico e pensare insieme di fare una strada comune che non sia in questo momento l'indicatore della soluzione di fino, ma che sia l'unione dei notai, degli avvocati, dei professionisti per mettersi al servizio di questo popolo. Ragazzi, non se ne esce. Allora, le ultime due domande veramente. Abbiamo laggiù, le facciamo tutte e due, però le facciamo in contemporanea e non vorrei dei comizi. Fate una domanda secca. Lei e quel ragazzo laggiù in fondo. Domanda secca è un po' difficile, anche per me perché so' appasciutello. Lo so. Volevo dire, è interessante la ricostruzione che ha fatto, lo sapevo, ma non si può uscire a meno che non ci riappropriamo della nostra moneta, diciamo. Perché? Perché noi attualmente diamo a dei privati, e già era quando la Banca d'Italia è stata privatizzata, già è successo. Diamo alla BCE, quindi a dei privati, la facoltà di stampare denaro. Una moneta da 500 euro costa 0,17 centesimi per la luce, per le maestranze per stamparla. La proprietà di venda della BCE, poi lo Stato italiano, tedesco, dice alla BCE mi presti i soldi e ci carica pure gli interessi. Questo lo sa il professore. Come possiamo noi cercare di uscire da questa situazione senza far sparire le banche? Le banche non dovrebbero esistere. Dovrebbe esistere lo Stato, la banca dello Stato, che stampa denaro e ha detto bene, poi lo distribuisce. Ma se uno dice a me, ma se uno vende la sua fabbrica... No, non mi fare un comissio, per cortesia. Fai una domanda. Ho detto tu, la domanda è questa. Io sono scettico che succeda, perché? Perché il popolo italiano, mi ci metto anch'io, come siamo caproni, nel dollaro c'è la famosa piramide, il popolo italiano non riesce a capire questo. Altrimenti cambierebbe le cose. Perfetto. Scusa, c'è un ragazzo laggiù in fondo, c'è un ragazzo laggiù in fondo. Monica, Monica laggiù in fondo, c'è alzato il ragazzo. No, laggiù in fondo, lì, questo ragazzo qua. Ex ragazzo, va bene. C'è anche una ragazza, ok. C'è anche una ragazza Bione. Provo a fare una domanda. Sì. Allora, gli antichi romani dicevano, dividi e impera. Qui si sta solamente imperando, non si sta più dividendo. La mia domanda è, qual è il vantaggio di distruggere uno Stato? Sono d'accordissimo, ma qual è il vantaggio? Non capisco realmente. Cioè, se noi mungiamo fino all'osso del collo il cittadino, qual è il vantaggio del club o di tutti quelli che stanno attuando questa attesione? Non riesco a capirlo. Bravo. Ecco, bellissima domanda, risponde Paolo Barna. È una domanda? Preferisco risponderti in questi termini, senza entrare dentro alle spiegazioni dei quattro gruppi di speculazione che stanno guadagnando da questo disastro. Il vantaggio è questo, di distruggere le democrazie, perché la democrazia è il nemico dell'oligarchia finanziaria. Cioè, nel momento in cui il potere finanziario mercantile, oggi è neomercantile, ma mercantile e finanziario hanno incontrato nel loro cammino millenario la democrazia, hanno perso il 90% della ricchezza. Distruggere stati, cioè mettere da parte gli stati, distruggere di sovranità parlamentari, a soggettare le leggi a decise, prendere le leggi nazionali e farle trasformare da quattro tecnocrati al servizio delle oligarchie, significa semplicemente distruggere la democrazia che è il grande nemico dell'accumulo di ricchezza. Molto semplice. Cioè, hanno aspettato quei 220 anni e dopo hanno detto basta, dalla rivoluzione francese non ce l'hanno perdonata e sono tornati a fare quello che si faceva una volta, mettere da parte tutto e guadagnare. C'è una domanda? Benissimo. Allora, buonasera, sono Roberta Ancona, ideatrice del Flash Mob che ho fatto due anni fa a proposito di stigazione e poi è nato il comitato. Intanto volevo far presente che faccio parte della scuola auritiana. Volevo chiedere a Barnard, che seguo, diciamo, ma lei ha citato grandi nomi americani. Alla base, diciamo, delle nostre problematiche c'è proprio l'America. Quindi volevo sapere, lei come si pone, per esempio, nei confronti? Tra l'altro sono fondatrice e mi sono costituita con il CIPS proprio perché tendiamo ad unire le forze. Lei come si pone nei confronti del professor Auriti. Noi abbiamo avuto un grande italiano, si è parlato molto di Aquila e io credo che questa serata forse il professore che ha fatto delle denunce è stato isolato, quindi io di questo non posso fare altro che inchinarmi a lui. Voglio sapere, Barnard, come si pone e soprattutto se ha intenzione di unirsi con tutti noi perché noi siamo per l'unione collettiva. Allora, la seconda domanda non rispondo perché ci sto ancora pensando e quindi è un grandissimo passo questo e io devo pensarci veramente molto bene. La prima domanda su Auriti, io le dico, guardi, di Auriti stimo sicuramente una quota di intuizioni che ha avuto. Lui è stato un precursore, sicuramente, insomma voglio dire, magari Kaleski è venuto anche prima di Auriti. Comunque, a parte questo, è stato un precursore. Purtroppo Auriti ha sbagliato nell'interpretazione della natura della moneta e non ha capito come funziona il sistema bancario realmente nel mondo reale, il sistema delle banche centrali eccetera. Per cui lì io ho visto sfaldarsi l'opera di Auriti. Purtroppo non è applicabile nel mondo moderno, non ha compreso che cos'è la natura della proprietà della moneta e il sistema bancario. E vorrei dare una risposta a questo signore rapidissimo. Nella mosa dell'economics modern money theory che è la nostra impianto economico. Ah, fra l'altro, signora, io l'America la conosco molto bene, ci ho vissuto eccetera. Contrariamente a quello che si crede è un paese straordinario perché ha prodotto tutto il male del mondo ma ha prodotto anche tutto il bene del mondo. Quando tu trovi un americano convertito a una buona causa ha un potere di fuoco cento volte un europeo e le garantiscono che Warren Mosler è una persona di questo tipo. Ma sta scherzando, ma scusi lei non l'ha conosciuto. Le faccio il nome, non so, Howard Zinn, mai sentito chi è? Gor Vidal, Nom Chomsky, vabbè comunque. Il signore ha parlato di banca di banca, è una cosa importante perché nel nostro impianto dello Stato che vorremmo portare c'è proprio questo. È una cosa molto tecnica, non la sto a spiegare, però riprendere una sovranità monetaria significa riprendere anche una sovranità del ruolo della banca centrale. La banca centrale ha il potere di decidere il costo di qualsiasi cosa riguardo il denaro e ha il potere di creare istituti di credito pubblici, non banche pubbliche come le abbiamo avute in Italia che erano dei carrozzoni politici, istituti di credito pubblici sotto la direzione del ministero del tesoro che costringono le banche. Nel nostro impianto c'è un sistema con una banca centrale molto forte che decide il costo del denaro e costringe le banche alla competizione fra di loro. Quindi se la banca centrale decide che il costo del denaro deve essere per il cittadino il 2%, dopo le banche devono giocarsela sotto il 2%. Questo è l'impianto riassuntissimo della mossa di economics, per cui il sistema bancario diventa succube, cosa che oggi non è del volere della banca centrale, del governo, espressione del volere dei cittadini. Allora adesso io seguo, uno alza la mano per prima e seguo questo criterio, i primi che alzano la mano e vado in ordine, quindi prego. Buonasera a tutti, io sono Giordano Concetti. Io le volevo chiedere, signor Barnard, complimenti perché l'ho seguita spesso al programma di Gianluigi Paragone. La mia domanda è questa, da giovane disoccupato, secondo lei volevo sapere le reali prospettive per noi giovani per i prossimi dieci anni, senza ipocrisia, questo mi interessava sapere. Io le posso consigliare molto caldamente un consulente che si chiama Elkan, che ha delle idee straordinarie, non so, l'avete mai sentito Elkan? Fa consulenze del lavoro per i giorni. Sì, allora le prospettive sono tragiche perché, come dico, privando il settore privato dei mezzi finanziari per creare la pieno occupazione, alla fine la disoccupazione di tutte le età ne viene coinvolta. La cosa più grave per i giovani in Italia oggi non è solo quello della mancanza di beni finanziari al netto nel settore privato per creare opportunità di lavoro, è anche quello dell'aver abbandonato completamente il mondo della innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dove è il mondo dei servizi, dove i giovani idealmente dovrebbero andare a lavorare. Voglio dire, aveva senso un'Italia con la metalmeccanica, con l'agricoltura in primo piano, ai tempi di Fanfani, quando l'istruzione italiana sfornava un ingegnere elettronico per 5.000 terze medie o al limite, la gente che arrivava a perito meccanica, allora aveva un senso in economia. Oggi l'economia è completamente cambiata. È vero che un giovane che ha una laurea, una specializzazione, gli dici vai a scaricare dei bancali al porto di Livorno, porca miseria, per 650 euro un part-time verticale, questo dice scusa un attimo. Allora capite? Ecco, quindi l'investimento dello Stato che descrivevo prima per creare la piena occupazione è un investimento che va poi specializzato in sintonia con la realtà di chi sono i giovani di oggi, ok? Allora, se su 100 ne hai 75 che sono specializzati post-laurea, investirai il denaro dello Stato nella creazione di posti e di servizi che possono prendere dentro questi giovani. Questa sarebbe la prospettiva sana. Perfetto, andiamo avanti, vediamo, è mezzanotte, possiamo stare qua anche tutta la notte. Allora, la mia domanda è questa. Volevo sapere se è possibile, tra le tante idee, fare una commissione d'inchiesta su questi gruppi del potere, visto che siamo in una democrazia e quindi noi dovremmo sapere ciò che succede, se è possibile fare una commissione d'inchiesta. Poi, volevo rispondere al collega avvocato di prima, guardi che... No, no, fai la domanda, fai solo la domanda, non rispondiamo, non rispondiamo. Faccio velocissimo, per vedere se ci si trova davanti allo Stato democratico o meno, basta vedere quanti diritti riconosce lo Stato, quando lo Stato sacrifica l'individuo è una caratteristica di una dittatura, che poi lo faccia con la scusa economica non cambia nulla, quindi basta riflettere su questo. Il mio sogno è arrivare a questa commissione d'inchiesta, ma si può arrivare quando gli italiani diventeranno consapevoli di quali sono queste lobby, cosa stanno facendo i danni dei cittadini e quando scenderanno nelle piazze, non scenderanno più per gridare tutti a casa, ma cominceranno a fare i nomi e i cognomi dei responsabili di questa dittatura finanziaria. Io ho preparato anche dei volantini che ho distribuito spesso nelle piazze, magari vi invito a scaricarli, dove c'è il nome e il cognome e sotto è scritto cosa ha fatto ai danni del popolo e cosa ha fatto a favore delle lobby dalle quali proviene. Tutto documentato, tutto specificato. Quando saremo in tantissime ad usare quei volantini, quando saremo in tantissime ad usare questi argomenti e scenderemo nelle piazze con questa documentazione alla mano e con queste argomentazioni e allora scatterà quella famosa inchiesta di cui le parla e che io auspico di riuscire a tenere prossimamente. Non so dove sia il microfono, avrò decine di… va bene, mi dispiace siete in dieci che alzate la mano, poi c'è quel signore lì che stava aspettando da un sacco di tempo. Ok, allora lei e poi quel signore lì. Buonasera a tutti, su internet stavo leggendo un movimento che parla di soranità individuale, che parla di vari articoli pubblicati, addirittura parlano del pignoramento delle banche, che è il pignoramento dei governi, è legato al codice internazionale del commercio, all'UCC. È una cosa che molti fanno anche sponsorizzandolo come delle richieste da non trarre banche per la cancellazione del debito, è legato al sistema di creazione del denaro. Volevo sapere se qualcuno delle persone intervenute era capace di spiegare o dare elucidazioni in questa cosa. Perfetto, allora facciamo fare una domanda anche a lui e poi dopo rispondiamo a tutte e due le domande in una botta sola. Grazie, sarò velocissimo. Alla luce di quello che si è detto, secondo me è il caso di iniziare, e mi rivolgo a Barnard e al comitato, di iniziare una vera rivoluzione pacifica, cioè lo sciopero fiscale, cioè il boicottare completamente le banche. Iniziamo anche con una lotta di questo tipo, sciopero fiscale. Perfetto, chi vuole rispondere? È già stato lanciato dal Tea Party questa iniziativa che stai parlando, lo sciopero fiscale, però non ha avuto molte adesioni. Molto probabilmente gli italiani non sono pronti a una cosa del genere. Io l'appoggio, io non pago, lo dico, se c'è qualche tributaria venga, io non pago. Quando a me mi arriva quella busta verde di Equitalia, la metto nel fuoco e faccio fuoco. Allora, scusatemi, la disobbedienza fiscale è un atto di rivoluzione pacifica. Quello che vorrei però farvi capire è che noi non abbiamo bisogno di porci la domanda se possiamo disobbedire non pagando le tasse o no, perché le tasse si pagano se c'è la possibilità di pagarle, basta, cioè le domande non le possiamo fare più. Se la maggior parte degli italiani non hanno la possibilità di pagarle le tasse, secondo gli articoli della Costituzione, non le devono pagare. C'è questo, il microfono sta là. Ok, vai, devi accendere il microfono. Da te proprio non me lo sarei mai aspettato. Allora, volevo dare una risposta perché non è stata data una risposta al signore con la maglietta arancione. Ma, dicevo, il contadino che ha ricevuto il finanziamento dall'Europa, ma quei soldi, quegli ero, da dove vengono? Perché in Europa c'è solo una nazione che ha un surplus della bilancia commerciale, la Germania. Quindi i soldi o vengono dalla Germania, e non credo perché Barbara dice che è la Germania, i soldi li dà molto poco volentieri all'estero, no? Si li tiene. Questi sono soldi che partono dall'Italia, vanno in Europa e ritornano all'Italia decurtati di una certa percentuale. Perché se l'Italia desse all'Europa 80 e ricevesse 100, l'Europa smetterebbe di esistere il giorno dopo. Perché l'Europa è stata creata apposta per togliere i soldi dall'Italia. Bravo. Ok, allora, un momento. Visto che tu hai dato una risposta, c'è quel ragazzo con la barba che vorrebbe una risposta alla sua domanda. Quel ragazzo là, se ti alzi in piedi, se ti dice che... Non lo conosco, non lo conosco. Ah. È una cosa che gira in internet. Sì, no, non... Cioè, a me spesso mi è stato mandato anche il CCCP, una cosa del genere, oltre. Oh, esatto, qualcosa del genere. Però noi ancora non l'abbiamo valutata. Mi è arrivato come messaggio, però ancora non è stata valutata. Sì, ma se ci fosse una cosa che funziona, come dici te, non te la permettono di fare, vuol dire che non funziona. Allora, c'è il ragazzo che vuole fare una domanda. Io volevo parlare al signor Bardard, di cui nutro profondo rispetto e stima. Però, per quanto riguarda la teoria auritiana della proprietà della moneta, mi sembra che, diciamo, ha snobbato un po' questa teoria, l'ha deviata, ha dato una spiegazione dicendo che non è applicabile la teoria auritiana e non ha motivato solitamente la risposta. Io voglio sapere perché. Perché, diciamo, si deve fare una sorta di convegno sulla proprietà della moneta e sulla teoria auritiana. Bisogna analizzare la teoria di Auriti, fare una sintesi e motivare la risposta per la quale lei ha detto che non è applicabile, realmente parlando nell'economia reale dell'Italia e dell'Europa. Allora, ripeto, la proprietà popolare della moneta è inapplicabile perché si disfa l'apparato statale, non esiste più lo Stato, non c'è più niente. Siamo lo Stato, siamo noi. No, no, perché... E allora che ci sta scritto nella Costituzione? No, è la terza volta che lo ripeto, lo Stato non siamo noi. Il problema è che voi non capite, quello che gli auritiani non capiscono è che la moneta deve essere proprietà di un monopolista perché solo essendo proprietario della moneta e costringendo i cittadini a pagare le tasse in quella moneta, il monopolista, cioè il governo, lo Stato, l'apparato pubblico, può approvvigionarsi di lavoro, di lavoratori. Sì, ma noi paghiamo le tasse sull'interesse che nasce dalla proprietà della moneta. No, 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 questo è tutto il discorso del signoraggio che io ho smontato in uno studio. Allora, siccome, secondo me, guardate, io lo dico per tutti gli auritiani che ci ascoltano, noi non possiamo fare un dogma di un pensiero perché se no poi ci poniamo sul livello degli economisti. Auriti era un giurista. Auriti è uno che rispetto a tutti gli altri ha detto, ragazzi, il diritto viene prima dell'economia. Quando lui parla di proprietà popolare della moneta, lui fa un salto avanti che è enorme rispetto al pensiero economico e alle teorie economiche. Questo è l'importante. Allora, a Paolo Barnard voglio dire rispetto a questo una cosa. se la Banca Nazionale Italiana fosse di proprietà dei cittadini italiani e emettesse moneta, fermorestando il ruolo delle banche rispetto al servizio che erogano, non andrebbe in conflitto con l'apparato statale. Anzi, allora, la proprietà popolare della moneta non può diventare un dogma, deve andare avanti e capire come si possa applicare in maniera seria. Allora, se la Banca Nazionale di proprietà dei cittadini italiani emette moneta, non va in conflitto con lo Stato. Allora, io dico questo, io non voglio entrare nel merito e nel dettaglio, però ragazzi, capiamo che qui c'è un principio di fondo che Auriti mette avanti, è che è il diritto. Non possiamo chiedere questo agli economisti. Allora, da domani voi sapete qualcosa di più. Provate a accendere una luce nel vicino di casa, in quello che incontrate la mattina dal panettiere, insomma, nelle persone. Io vi ringrazio di aver partecipato e ringraziamo il comitato e chi vuole può comprare il libro di Francesco Amodeo. Dove? Francesco, dove? Qui. Ah, qui. Può venire qui a comprare il libro di Francesco Amodeo. Grazie a tutti per aver partecipato e ci rivedremo prossimamente. Grazie a tutti per aver guardato il libro di Francesco Amodeo.